Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione di Tiago Giallò. Prima di iniziare con le domande iniziamo da Tiago che voleva dire una cosa. Sto pronto, sono pronto per parlare con voi. Iniziamo da Juventus TV. Ciao Tiago, Andrea Collella Juventus TV, benvenuto. Io ti chiedo quali sono le tue prime sensazioni dopo questi primi giorni alla Juventus, dove hai avuto modo di conoscere anche la squadra, i compagni, l'allenatore, ti sei anche allenato. Grazie. Sono molto contento, la squadra è una squadra forte, è una squadra di qualità. Abbiamo un allenatore molto forte e penso che io puoi imparare tanto con lui. Marco Renditti, signora Mia Calcio News, ciao Tiago, ben arrivato qui alla Juventus. Ti chiedo cos'è che ti ha colpito in modo particolare due giorni solamente che stai vedendo, ti stai guardando attorno alla Juventus, l'avrai conosciuto in passato, cos'è che ti ha colpito in modo particolare di questa grande società? Grazie. Io ho arrivato adesso e mi sento molto bene, abbiamo una squadra, come ho detto prima, di qualità e mi piace come la squadra gioca e per me è più facile da imparare. Bisogna giocare qui perché è diverso dal campionato francese e come ho detto prima sono molto contento di essere qui e darò tutto per la squadra. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese Sport Italia. Sandy, per un lungo periodo sembravi molto più vicino all'Inter. Ti chiedo cosa ti ha convinto ad un certo punto a scegliere la Juventus. Grazie. Io ho sentito che la Juve mi ha dato un'opportunità grande e io sono molto contento di essere qui perché è un club grande, con molta storia e penso che ho fatto bene di fermare con la Juve. Ciao, Giovanni Guardalasca e Sport. Ti chiedo intanto come stai per capire quando potrai partecipare bene con il gruppo visto che arrivi da un infortunio e poi ti chiedo per come gioca la Juventus in questo 3-5-2 qual è il ruolo in cui ti sentiresti più comodo? Mi sento bene, il mio ginocchio è buono, penso che adesso è una questione di opportunità io sono pronto, come ho detto prima darò tutto per la squadra e io posso giocare a sinistra, a mezzo, a destra per me è uguale e darò tutto per il nostro lettore e per me è il più importante. Ciao, Romeo Agresti, Goal.com Federico Giunti che ti ha allenato nella primavera del Milan ti ha paragonato a Tomori ti chiedo se pensi che possa essere corretto questo paragone e se c'è un giocatore al quale ti ispiri, ovviamente a livello difensivo. Grazie. Siamo un po' differenti, però io rispetto tutto che lui ha detto abbiamo molti difensori di qualità mi piace imparare tanto con Lilian Turan perché io gioco a destra, gioco a sinistra e io gli ho fatto la stessa cosa quando facevo il calcio. Buongiorno, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport ti volevo chiedere, l'ultimo portoghese che ha vestito la maglia della Juventus è stato Cristiano Ronaldo tu sei cresciuto nello Sporting come Cristiano Ronaldo nello Sporting dove c'era anche Leao volevo chiederti se prima di firmare per la Juve hai avuto modo di parlare con Ronaldo e ti ha mandato in bocca al lupo per la tua avventura con la Juve Non ho parlato con lui però come ho detto prima ho sentito che la Juve voleva comprarmi e per me è il più importante penso che non bisognava parlare con nessuna persona e per me è molto importante di fermare con la squadra come la Juve Buon pomeriggio Alessandra D'Angiora e Sport hai vinto con il Lille e adesso arrivi in una squadra che è in pieno duello scudetto con l'Inter quindi ti chiedo come vedi questo duello come l'hai visto finora da lontano e come lo vedi ora che sei arrivato e magari anche il consiglio che ti senti di dare per chi ha vinto pur non essendo partito quell'anno come i favoriti Bisogna fare un buon lavoro perché abbiamo un campionato di qualità vogliamo vincere quindi bisogna fare tutto perché è un campionato difficile è importante giocare bene tutte le partite e penso che abbiamo qualità per vincere il scudetto Antonio Paolino Radio Bianconera in prima fila davanti a te ai coloro i quali della Juventus del tuo staff hanno messo gli occhi su di te li hai convinti ci racconti qualche retroscena di questa operazione soprattutto come pensi di convincere Allegri e sai che in Italia le esigenze difensive sono fondamentali grazie io sono tranquillissimo ho venuto qui perché voglio giocare io adoro tutto per la squadra è una questione di opportunità io sono tranquillissimo io so che ho qualità per giocare qui quindi è una questione di opportunità è stato bene ho sentito che la Juve voleva comprarmi ho parlato della strategia con loro mi ho sentito bene quindi mi ho fermato con la Juve buongiorno Tiago benvenuto Nicola Balice la stampa è calciomercato.com che cosa ti è rimasta della prima esperienza in Italia e che cosa hai capito del campionato italiano in cosa devi cambiare o migliorare per farti trovare subito pronto grazie è una qualità forte io come difensore devo stare sempre bene devo lavorare bene e qui abbiamo un campionato più tattico però io sono pronto per giocare per imparare quindi non sarà un problema Marina Salvetti tutto sport volevo chiederti che cosa ti ha detto UEA quando vi siete sentiti prima che tu arrivassi qua ti ha già parlato della Juventus che cosa ti ha detto della Juventus in qualche modo ti ha convinto oppure tu eri già convinto prima di arrivare qua sì, ho parlato con lui lui mi ha chiamato lui mi ha detto che abbiamo una squadra di qualità però io sapevo però è venuto qui perché ho sentito che Juve aveva una strategia io ho sentito che è una buona squadra per me quindi io ho fermato con la Juve il team UEA è stato importante però non ha cambiato niente ciao Tiago Federico Sala da Zon ti chiedo se c'è un aspetto un avversario anche un giocatore che ti incuriosisce a affrontare ora che sei tornato in Italia mi viene in mente per esempio Ozyman con cui hai giocato a Lille è un qualcosa che ti incuriosisce e che non vedi l'ora di affrontare io sono pronto per giocare con tutti i calciatori del campionato italiano io so che abbiamo un campionato di qualità però io sono un calciatore di qualità io sono pronto per giocare contro verso tutti i calciatori Buongiorno sono Filippo Cornacchi alla Gazzetta dello Sport ti volevo chiedere a Lille tu hai un grande amico che si chiama Leao quando eri al Milan vi siete incrociati cioè tu dal Milan sei andato a Lille e lui dal Lille è andato al Milan ho visto che ti ha dato già il benvenuto in Italia nelle ultime ore Leao è più contento o preoccupato di averti in Italia visto che Milan e Juve comunque sono due rivali? lui è contento per me perché io conosco Rafa da molto molto tempo ho giocato con lui a Portogallo lui bisogna fare il suo lavoro io faccio il mio lavoro e se ho un'opportunità di giocare contro lui io darò tutto per per giocare bene perché lui è un calciatore di qualità però io non ho problema di giocare con nessuno calciatore ciao Tiago Cristiano Corbo il bianconero cosa ti ha chiesto a Lille in queste prime ore alla Juventus? grazie mi ha parlato con lui lui mi ha dato confianza lui mi conosce bene io so come la squadra gioca però devo imparare un po' di più con lui abbiamo tempo che stamattina ho parlato con lui e ho imparato qualcosa di più che non sapevo perché qui giochiamo un po' differente nella Francia ciao Tiago benvenuto Nicola Gallo Gruppo Mediapason ti chiedo se c'è qualche compagno che è già un punto di riferimento per te nello spogliatoio se ti ha aiutato di più in questi primi giorni a Torino e ti chiedo se nello spogliatoio hai percepito un certo entusiasmo e magari hai sentito anche quella parola che fra i tifosi incomincia a correre che è scudetto cioè la voglia davvero di vincere questo campionato che molti non si aspettavano potesse vedere la Juve in corsa io ho parlato tanto con Danilo perché parliamo la stessa lingua e lui ha giocato con molte persone che io conosco anche Alessandro e Danilo come giociamo alla stessa posizione lui ha parlato più per non fare capire cosa bisogna rifare però abbiamo una una squadra una buona una squadra di qualità una squadra che voglia aiutarmi e mi sento mi sento mi sento bene ti chiedo se c'è un motivo particolare per il quale hai scelto la maglia numero 33 grazie io a Lille io gioco con il numero 3 e qui abbiamo Bremer che gioca con il numero 3 quindi ho detto che voglio giocare con 33 perché bisogna mettere solo un numero di più che è il numero 3 Antonio Paulino Radio Bianconera al volo proprio pensi di essere convocato convocabile per domenica per sabato o pensi che il tuo il tuo esordio la tua convocazione slitti ancora di qualche giorno settimana io mi sento bene ho lavorato ieri ho lavorato con la squadra stamattina quindi è il nostro notore che va a dire se vado con la squadra o no io sono tranquillissimo e lavoro bene quindi bisogna rispettare ok non vedo altre domande allora chiamo i direttori sul desk per la consuetta foto grazie 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 ok un altro in english please if you want you can just put it to the side like this like it thank you grazie grazie